Ah, dello split, stavo dicendo, che ho condiviso oggi su Instagram la foto, e molta gente su Twitter l'ha interpretata dicendo che forse non daranno neanche il premio nel caso tu nel primo split abbia fatto un rank più alto del secondo split perché conta solamente il rank finale. Loro hanno scritto una cosa simile che potrebbe essere interpretata in questo modo, e effettivamente probabilmente è la giusta interpretazione perché hanno proprio scritto che daranno i premi solamente in base al rank finale, cosa che è completamente no sense perché ovviamente lo split così non serve a un cazzo perché, dabbè, volendo serve perché per dire io adesso col secondo split sto a platino 2, quindi... Però a quel punto perde completamente di senso il discorso del Master e Predator nel primo split perché chi ha rankato per il Predator nel primo split se restava Master veniva comunque derankato a platino 2, quindi non ha senso. Ovviamente è una giocata stupida se effettivamente faranno così, cioè se effettivamente sarà che vale solamente il rank finale per le ricompense, decisamente non è una cosa che hanno pensato prima perché è una cosa stupidissima. Secondo me non l'hanno fatto per i Six Manner, secondo me questa non era la loro intenzione a inizio stagione e hanno fatto così per via del bug che c'è stato a fine primo split. Perché a fine primo split c'è stato il problema della gente che è stata derankata due volte? Cioè c'è gente che è stata derankata due volte tipo come se a me avessero derankato una volta da Master a Platino 2 e poi un'altra volta da Platino 2 ad Argento 4 o quello che è. E alla gente che è successo in questo modo se quelle persone vanno a vedere il loro rank nel primo split gli compare quello del primo derank, quindi nel mio caso sarebbe comparso Platino 2 divisione 1. Ad altri è successo che hanno perso il loro rank perché qualcuno gliel'ha rubato, nel senso la gente che stava pred, tipo metti top 740 pred, quasi tutti quelli che erano pred basso il pred l'hanno perso. Perché quando c'è stato il primo split posticipato è successo che qualcuno poteva continuare a giocare le ranked nel primo split mentre qualcuno ce l'aveva bloccate. E quindi quelli che potevano continuare a giocare le ranked del primo split hanno continuato a rancare, hanno preso gli spot nel Predator e quelli che invece avevano magari un pred basso e però non potevano più giocare nel primo split hanno dovuto aspettare che iniziasse il secondo, hanno perso la posizione pred. Quindi sono successi un bel po' di casini col primo split appunto, gente derankata due volte, gente che ha perso lo spot Pred perché gli è stato rubato, perché per colpa di quel bug non poteva più giocare, mentre gli altri sì. E secondo me loro non riuscendo a sistemare in un modo sensato questa cosa del primo split hanno detto vabbè diciamo che diamo solo i premi per il rank finale e non per quello del primo split. Secondo me hanno fatto una cosa simile. Cioè è successo un casino assurdo col primo split perché appunto è stato posticipato, qualcuno poteva giocare, qualcuno no, qualcuno è stato derankato due volte, qualcuno una sola e secondo me non riuscendo a sistemare sto casino che hanno fatto hanno detto no finisce dopo domani la mod del pesce d'aprile. Perché c'è scritto un giorno che vuol dire che dura più di un giorno quindi dovrebbe essere dopo domani alle 19, lunedì alle 19. E quindi secondo me non riuscendo a sistemare sto discorso del primo split, questa cazzata che hanno fatto, secondo me hanno detto bella diciamo che valgono solamente le ricompense del secondo, il rank del secondo per le ricompense. Una cosa che non ha senso perché ovviamente appunto il discorso, la gente che ha fatto il pred nel primo per cosa l'ha fatto a fare che tanto viene derankata a platino 2 uguale, cioè però...